Auguri Nanni. Incredibile che fai live da un anno. Bellissimo il messaggio nascosto in questa live. Se uno come Nanni è riuscito a diventare uno streamer, anche voi della chat potete realizzare i vostri sogni. Credeteci. Piovuto oggi, c'è avuto un secondo di terrore che non riuscisse a far partire questa diretta perché c'era la connessione che era morta completamente. Ho fatto proprio oggi. È andata bene fino a ora, oggi invece è così. Invece meno male si è ripreso all'ultimo. Capite in che condizionale? Capite perché non è pubblico questo video? Allora, grazie Paul per i 50 bit. E non sono nemmeno passati i 30 minuti Nannit Kiku. Sarebbe effettivamente molto, sarà molto draterio durante l'esempio, ne sono sicuro. Scusate per la transizione, non me lo sapevo neanche io, era troppo alto il volume, me lo ricordo dal tempo, però non credevo che così, sparato in cuffia, facesse così tanto male. È vero, cioè se ce l'ho fatta io ce la possono fare veramente tutti.